Stanno per iniziare i grandi giochi per eleggere il nuovo presidente della Repubblica e noi vi raccontiamo il potere nell'ombra, il potere non dei re ma dei cardinali, il potere dei consiglieri, il potere di chi ha le relazioni e di chi ha i segreti. Innanzitutto vi proponiamo un grande ritratto di Matteo Messina Denaro, l'ultimo fantasma di Cosa Nostra, latitante da 30 anni perché lo Stato non riesce a prenderlo, forse proprio perché ha tanti segreti, ma vi raccontiamo anche dei ritratti della politica, il gran visire Gianni Letta, il grande consigliere Sabino Cassese e i signori delle fondazioni bancarie e poi vi raccomando la lettura di un grande reportage di Jan Urbina, un giornalista premio Pulitzer che è andato in Libia a indagare sui crimini contro i migranti fatti dalle milizie libiche che lavorano anche per noi italiani e per noi europei. Tutto questo su FQ Millennium in edicola da sabato 11 settembre.